Dell'IAS ho ricordi diversi, ho dei flash, più che delle situazioni precise, ho dei luoghi, ho il portone di via Tovaglie 7, ho il computer Apple che veniva usato in quella sede, ricordo molto bene la macchina per stampare i volantini, ricordo le matrici di cera, ricordo i presidenti di allora, Montanari, Enrico Lenzi, ricordo gli obiettori di coscienza che erano più grandi di me, ricordo i miei primi passi da giornalista o comunque da persona che si interessava di informazione, ricordo le persone disabili, loro si dicevano handicappate, che aiutavo, che accompagnavo a fare terapia, ricordo il centro Bernardi che non aveva a che fare direttamente con l'IAS ma che mi avvicinò all'associazione. L'IAS è nata come associazione fin dall'inizio, non solo come associazione dei familiari, anzi diremo che è nata a livello nazionale, è nata nel 1956, noi a livello locale siamo nel 1962, è nata dalla convergenza di un gruppo di genitori di tecnici, non a caso Milani comparetti era dell'IAS, non a caso anche Bollè a Roma e quindi nello statuto non era come per l'ANFAS che era strettamente, potevano diventare soci soli i familiari. Era l'unica associazione Bologna che si occupava in quel momento di disabili fisici, anzi aveva stipulato anche un accordo col Comune di Bologna, si andava a fare la terapia sulla Villa Revelin che poi dopo successivamente fu trasferita ai consorsi sociosanitari. Il Comune di Bologna decide in quel periodo, primissimi anni 70 ma direi fine anni 60, più meglio come connotazione temporale, di impegnarsi in prima persona sulla gestione di questo tipo di problemi, avviando una serie di opportunità di servizio che si staccano dal modello di ospedalizzazione che era il modello dominante nel periodo immediatamente precedente. Una famiglia da sola non smuoveva niente, con un'associazione alle spalle siamo riusciti ad entrare in contatto con l'assessore, con il sindaco, a farle vedere che noi famiglia non potevamo sostenere la spesa per la terapia, per la scuola, perché la scuola era un diritto. C'era la paura della Nuovo, lì è stato positivo il lavoro delle associazioni. In Pandà noi avevamo come presidente l'ingegner Piero, un uomo molto intelligente, anche disponibile, e l'Anfas soprattutto perché aveva la Biavati come presidente, poi la Chiudina è entrata dopo come tecnico. Allora, il lavoro delle associazioni è stato quello di mediare fra la paura e la ostilità dei genitori e invece quello che erano le offerte che stavano venendo rispetto alla scuola. Questo ha coperto, diremo, tutto siamo andati avanti anche nei primi anni 70-75 e questo, diremo, ha portato a un lavoro notevole di rapporto strettissimo con le famiglie, nello stesso tempo però anche di ricerca continua da parte delle associazioni di quello che potevano essere delle esperienze positive. Un anno che veniva giù una neve, in gennaio, me lo ricorderò sempre, col pomino ci ha portato al consiglio che non ci volevano dentro, ma noi ci siamo andati, c'era anche la Iole, vero? Ecco, a consiglio comunale, con tutti i nostri ragazzi che venivano giù la neve che Dio la mandava, tutte con le carotelle, insomma abbiamo sempre lottato. Eravamo a Risoli e da qui dovevamo andare su, se uno aveva la possibilità prendevi il taxi, se no, io andavo lì e prendevo l'autobus in Silei e da Risoli ci hanno mandato a Villa Revedin. A Villa Revedin dovevamo fare un pezzo di strada, che il mio era anche abbastanza peso, scendevo dall'autobus e me lo portavo su in spalla. Sono venuti su i dottori di Risoli, tutti della brava gente, ci hanno detto guardate, adesso voi andate a casa, nei quartieri troverete tutta la terapia per i vostri ragazzi e vi troverete di un bene che vi trovate meglio di qui. E noi, delle belle minchioni come da mamma, credevamo tutti, firmiamo, veniamo fuori, perché purtroppo la sua aveva ragione, dovevano mettere dentro i seminaristi, e usciamo fuori con i nostri ragazzi per tre anni, tre anni. Li avevamo lì, il mio era diventato come un vecchio decrepito. Alle superiori hanno detto basta, adesso vi arrangiate. Noi non ci siamo arrangiati, siamo andati a scuola per un anno con l'ambulanza. I ragazzi andavano a scuola in via Sant'Isaia, alla mattina alle otto un'ambulanza scaricava tre ragazzi, si fermava tutto il traffico in via Sant'Isaia. Allora in questo modo qui abbiamo ottenuto il trasporto dalla regione. Stavamo in tre gatti, c'ero io come presidente, l'Aiole come volontaria che ci ha messo un sacco di ore, c'era la Marta, l'Ora, una ragazza disabile che faceva da segretaria con una particolarità che l'Aias pagava lo stipendio alla Marta, ma lo stipendio veniva da dietro pagato dal babbo. Sono stato consigliere per due mandati, penso che l'Aias con tutti i suoi difetti abbia una ideologia di carattere intensamente positiva, mette al primo posto la persona e le sue viventi. L'idea del centro di documentazione è venuta fuori come spesso capita quando ci sono incontri fortunati, diciamo così, fra più persone, più tematiche, più storie, più idee. La prima è questa, di creare una biblioteca specializzata sulla disabilità. L'altra idea, siccome avevamo persone all'Aias con gravi deficit motori e quindi con anche numerosi problemi per l'inserimento lavorativo, ha un po' funzionato l'idea che si potesse fare un lavoro di tipo intellettuale. Credo che l'Aias abbia saputo fare un po' sistema fra tutte queste idee. La storia del nostro gruppo di lavoro comincia nel lontanissimo 81-82 con l'acquisizione del primo microcomputer. A quel tempo eravamo un gruppo di obiettori di coscienza e un gruppo di volontari, principalmente tecnici e uno psicologo. Fino all'84-85 abbiamo lavorato all'interno del centro di documentazione handicap fuori da Zeglio in uno stanzino 3x3, in parte occupato dalle scansie dei libri della biblioteca e avevamo sostanzialmente un tavolo e poco più. Nell'85 siamo passati alle scuole Bombicci, allora da 3x3 siamo andati a un 6x4, un monolocale che avevamo attrezzato in due microlocali, mettendo su un primo laboratorietto dove si faceva, si costruivano allora anche i primi, alcuni ausili. Io credo di aver avuto dall'Aias una sostenibilità assoluta sulle idee che allora erano veramente al limite, al limite delle scelte. Andiamo in Marocco, a fare il sud del Marocco. Primo viaggio, mai organizzato, molte di queste persone non erano andate neanche all'estero, erano soci dell'Aias, giovani, e andiamo in Marocco, terra che per fortuna conoscevo, paese che conoscevo per cui qualche rifiuto, facendo il sud del Marocco con le carrozzine in mezzo alle tende, in mezzo al deserto. Nel 1988, entrai a Paderno nella struttura dell'Università, a Escovo, la prima struttura. struttura. E vabbè, ho voluto un gruppo di progetti, perché sono stato il primo a entrare struttura. di avere la possibilità di scegliere la camera singola. Ecco, nonostante l'ambito comunitario di Paderno mi stava un po' indigesto, però con il tempo, mi sono, io ho conto che la struttura è tipo, è iniziare, non può avere certe caratteristiche, certe regole. La cosa che avrei fatto diversamente era l'esperienza di Paderno. Perché? Perché io consideravo che l'esperienza di Paderno, a cui poi è nata questa casa, la pensavo come punto di transito, non come casa che dovesse essere ed avere una residentialità definitiva. pensavo che le persone disabili dovessero e potessero avere quello che, secondo il mio modestissimo parere, è uno spazio di decriminalità che purtroppo io vedo che molto spesso le persone disabili faticano ad avere. Quello che abbiamo ottenuto a quei tempi l'abbiamo ottenuto attraverso l'Aias. La trasformazione di un'associazione di mutuo soccorso tra genitori a un soggetto che invece interagiva con le istituzioni pubbliche, in particolare col comune, nella definizione, nel mantenimento, e nella creazione di servizi? Una persona, non l'ho conosciuta tantissimo, che sono dentro, sono tutte dentro di me, però non riesco a dire una persona speciale, sono tutte speciali. Mi ricordo che ho imparato moltissime cose, fra le tante cose una cosa importante che ho acquisito e che imparavamo tutti lì a gestire era il tempo, la lentezza. Allora si lavorava la invece con persone che anche solo a parlare o a scrivere un concetto ci pettevano qualche minuto, se non di più. E quindi fare il giornale con Michele Morritti, con Claudio Imprudente, con Andrea Tinti, con Luca Pieri comportava tempi dilatati, fastidi anche, nervosismi, però era una condivisione, era un prodotto che era molto più, che nasceva molto più ricco. La Fabia Venturoli per averci insegnato il rispetto di una persona disabile in tutto e per tutto, l'Enrique Lenzi perché a me ha insegnato a rapportarmi a lavorare nell'ambito del sociale. Ecco, quello è stato un insegnamento molto impegnativo che però credo di portarmi dietro. Ho imparato a partecipare a incontri pubblici, ha sempre pubblici. Ho imparato a... Ho imparato... Ho imparato... Ho imparato... Ho imparato... Ho imparato... Ho imparato... Mi ha dato un'altra politica a cui il problema del handicap o del deficit deve rapportare. Perché la politica può parte del gioco. E anche questo continuo, questo cambiare progetto dopo un lasso di tempo di sperimentazione abbastanza lunga mi ha sempre dato nuovi stimoli. E poi l'ingegner Pieri naturalmente ti dava la possibilità di muoverti anche da sola. Il concorso letterario che l'AIA ha fatto, perché una volta ha fatto esprimere la persona disabile sui temi che secondo me sono comunque fondamentali, che riguardano l'architazione della disabilità, come si vive con la disabilità. Ha cominciato a dire che bisogna convivere con l'handicap, non sperare negli miracoli scientifichi. La vita, come poi, fortunatamente non è finita in una sala di reeducazione funzionale, ma è fortunatamente andata oltre. Sicuramente non è un appoggio, poi è un appoggio d'aiuto, poi si può sempre vedere insieme, perché le cose vanno migliorate. Io personalmente non mi davo da fare, ero disponibile a vedere quello che serviva a Marco, ma quello che serviva anche agli altri. Io mi sono appassionata a tenere dietro, perché io vivevo il problema di mio figlio, ma sentivo anche che con le mamme dovevamo aiutarci insieme. Il mio istinto era di lavorare per l'Aias e fare le cose gradatamente e mi sono fatta coinvolgere. Io sono sempre stata all'interno dell'associazione e il mio ruolo è sempre stato quello di collegarci fra di noi. Io quello dico l'ho vissuto, ho cercato di farlo tutto il tempo che sono stata lì. Nel mio piccolo, qualcosa ho sempre fatto anch'io per l'Aias. Sono stata anche consigliera con l'Aiole. Delle sere andavamo al consiglio con l'Aiole. Finito la riunione che si faceva o in casa da uno, o in casa dall'altro, o anche in associazione, perché non c'era un posto stabile. Per ritrovarsi un po', mentre così, si faceva le crescentine, io impastavo, insomma si frigeva, capito, per stare insieme e sempre si discuteva. Mi ricordo quanto ci tenevo a quel lavoro, mi ricordo quanto mi portava via di energie, quanto mi appassionava. Mi ricordo quanto non guardavo l'orologio, quanto tempo si stava in quegli ambienti. Per me la, una paletta, una paletta di vita, di vita. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Io avevo anche tempo da dedicare. È stato un periodo per me meraviglioso Anche perché c'era effettivamente la voglia di realizzare, ma c'era molto poco. In quel periodo c'era lo perfido, poi lo perfido succede Tancona, c'era un lavoro fra il pubblico, l'università e le associazioni, vabbè, più o meno nate, cioè nate da alcuni anni, proprio per cercare di dare delle risposte molto qualificate e dare una risposta anche alle esigenze dei familiari Io stavo bene dove stavo, mi piaceva fare le cose che facevo, non avevo una visione complessiva del senso di utilità dell'Aias nella vita sociale di Bologna È stato tutto un po' automatico, io ho sempre fatto questo alla fine e mi sono sempre divertito molto Sicuramente con Aias ho trovato quella voglia di fare quella leggerezza che mi ha permesso poi di sentirmi abbastanza a casa mia Sono sempre stato molto contento di lavorare per un'associazione impegnata seriamente, ma che aveva quel tocco per certi versi di leggerezza che mi garantiva un'area di piacere e di divertimento in un lavoro impegnato, che non è poco Lavoro per l'Aias da 19 anni, un bel po', quando ho finito le scuole superiori ho fatto tante domande, tanti concorsi E dopo alla fine ho detto, ma perché non chiedere all'Aias? Poi dopo pian piano ci sono riuscito un po' in borsa lavoro e dopo sono stata assunta Aias con la sua esperienza nel tempo ha spinto l'ente pubblico alla creazione di un servizio e insieme si è andati al rinnovo periodico delle convenzioni introducendo sempre elementi migliorativi coprogettati Un'esperienza molto felice di coprogettazione di servizi che vengono erogati come servizi pubblici In quanto sono gestiti direttamente dall'USL attraverso la convenzione con Aias Quello che abbiamo cercato di fare negli anni è legarci, fare rete sia a livello locale sia a livello nazionale sia a livello internazionale Per guardare al futuro guardo al passato, credo che Aias abbia giocato un ruolo molto importante di stimolo nei confronti degli enti locali Per lo sviluppo anche di servizi innovativi tipo quelli sugli ausili L'Aias secondo me deve riprendersi il valore associativo Il più possibile di rappresentare il diritto e i nuovi bisogni delle persone disabili perché sono cambiate In un momento in cui siamo al taglio dei servizi Adesso ci sono in discussione questi diritti Per cui secondo me l'Aias dovrebbe ritornare ad essere quella che era all'inizio degli anni 80 Cioè l'associazionismo che difende i bisogni ma che dà anche delle idee progettuali nuove su come risolverli Le battaglie ci sono ancora anche adesso Le famiglie devono, non possono essere da sole andare a lottare La funzione dell'Aias adesso è ancora di essere un supporto alla famiglia Un momento di vera transizione, transizione politica, transizione organizzativa, transizione di modelli Dobbiamo pensare a nuovi modelli di gestione delle persone disabili Dovrebbero pensarlo anche le famiglie Incominciare a rivisitare tutto l'insieme della gestione del disabile Che purtroppo oggi continua ad essere gestito solo in virtù dell'emergenza La mia impressione, anche se conosco ormai un po' da lontano il lavoro dell'associazione dell'Aias E' che questi anni di grande lavoro di gestione di operatori, educatori, appalti, denari, problemi, organizzazione Abbia un po' distolto l'attenzione dell'associazione da attività più di carattere educativo, culturale, divulgativo Che erano quelle che allora, almeno quando c'ero io, erano quelle di cui noi in parte ci occupavamo L'esempio che io faccio spesso quando mi capita di parlare è che, non so, io mi ricordo agli anni 70-80 Il tema del diritto al lavoro era un tema acquisito I ragazzi che conoscevo io, almeno e non solo, lavoravano, con grande fatica ma lavoravano Ragazzi che magari con gravi disabilità, oggi mi sembra che il tema sia assolutamente fuori dall'agenda Cioè, chi ha una disabilità media o grave, certo non pensa e non ha nessuna possibilità di trovare un lavoro E su questo secondo me bisogna ancora tornare a lavorare Io credo che, tra quello che succedeva allora, cioè primi anni 70 Dove l'inserimento di persone disabili nella realtà sociale era di fatto vissuto Anche dai genitori, per traslato, ma in prima persona dagli interessati Come una rivendicazione di diritti nel clima generale della rivendicazione di diritti che ha connotato quel periodo Successivamente c'è stata inserita questa fase della sussidiarietà e del pensare al rapporto appunto tra attività di promozione e impegno diretto del soggetto pubblico Che ha fatto abbastanza venire meno, non so come dire, questo passaggio caratteristico Che è stato il passaggio caratteristico degli anni 60-70 In bene e in male, nel senso che in bene perché tutta una serie di cose che ai tempi costavano mobilitazioni pesanti Ci sono stati esposizioni personali anche molto forti, sono diventate di fatto dei diritti acquisiti In male, nella misura in cui è stata persa la capacità, la volontà e anche il piacere Ma questo è un tema comune a tutta la società per certi versi Di lottare per alcune cose, mobilitarsi per ottenerlo Credo che la collocazione pubblica dei servizi ausili sia importante Sia assolutamente da mantenere In un modello in cui noi abbiamo sempre creduto Che è la nostra filosofia di lavoro Cioè dei servizi che aiutino a individuare la soluzione migliore tecnica Ma non solo Da inserire in un progetto di vita delle persone Se guardo avanti vedo rinforzare questo ruolo Nell'attuale momento di crisi credo che centri ausili come i nostri Siano un importante alleato dell'ente pubblico per spendere bene i propri soldi È cambiata l'AIA tanto quanto è cambiato il mondo in generale Pur mantenendo la sua anima ha tentato di adeguarsi al mondo corrente E secondo me tra gli anni 80 e il 2012 sono cambiate tante cose Dal punto di vista proprio della concezione sociale Dal punto di vista del contributo Dal punto di vista economico che ci poteva essere Dal punto di vista della partecipazione Dal punto di vista degli ideali Secondo me sono cambiate tante cose Non è un'associazione Io non la considero un'associazione di dinosauri Ancorate a un'idea vecchia Se adesso vai a vedere L'impegno che AIA sa Con la tipologia di utenza Ovviamente non ci sono più Praticamente più Persone con territoria Parigi e Spastica Ma ci sono 10.000 altre problematiche Diverse Quindi comunque anche lì è cambiato È cambiata la modalità È l'approccio Il modo di stare in rapporto Alle nuove disabilità che ci sono Da parte delle associazioni Ormai non si parla più di umanità Si parla di efficienza Si parla di preparazione professionale Non ho niente Io contro la preparazione professionale Di preparazione professionale Di gestioni altamente professionalizzate Però alla fine Di umanità non se ne parla Credo che sia Un aspetto fondamentale Che bisogna recuperare Soprattutto in questo periodo di transizione Per cui se dovessi dare un consiglio all'Aias Direi mettiamoci lì Troviamoci attorno a un tavolo Ma Aias e altri Perché credo che le collaborazioni Debbono essere estese E incominciamo a A guardarci fuori e dentro Che cosa ci succede E vediamo che cosa possiamo fare Che cosa inventarci Per gestire il futuro Il futuro dell'Aias Detto molto in sintesi Dovrebbe sempre essere un futuro Dove tu Mi piace fare questa immagine Dai sempre più La parola Alla Persona Che da oggetto Diventa soggetto E protagonista Della propria vita La persona disabile È soggetto E deve essere protagonista Di se stesso Delle cose che vive E quindi La persona disabile Che diventa Una persona su cui Si progretta Si investe Si commette È questo Quello che Deve Dovrebbe fare L'Aias Che Grazie a tutti.